Imagination, Just an Illusion, 8 e 12 minuti, ben tornati qui a Good Money Milano, ben tornati qui su Crystal Radio. Quest'oggi abbiamo già tanti ospiti, tant'è che abbiamo anche anticipato un attimino sulla solita scaletta. Diamo il benvenuto qui in studio con noi a Raffaella Stacciarini. Buongiorno Raffaella di Meglio Legale. Buongiorno a voi. Buongiorno Raffaella e buongiorno collegata alla casa con Federica Valcauda, Radicali Milano. Buongiorno Federica. Buongiorno. Buongiorno, grazie mille allora per essere qui. Lorenzo il tema è ampio in realtà, anzi già che ci saremo poi facciamo magari anche a Federica qualche domanda sul tema precedente, quello sulle carceri. Possiamo anche iniziare da quello collegandoci un po' a quello che ci ha detto il consigliere Naum, perché prima Federica siamo stati in collegamento con il consigliere del PD Naum che ha proposto un consiglio comunale in carcere dopo la tragedia, l'ultima tragedia delle tante che si è verificata nel corso della prima diffusa al 7 dicembre. Sappiamo che il tema del sovraffollamento delle carceri è... Sì, infatti di qualche giorno fa abbiamo anche una vostra uscita con dei dati che avevano a che fare con il sovraffollamento delle carceri, giusto Federica? Sì, abbiamo superato le 60.000 unità di presenza all'interno delle carceri e certamente l'argomento centra in modo importante perché un terzo dei detenuti è appunto all'interno delle carceri per reati droga correlati. Molto spesso capita anche che all'interno delle carceri ci siano delle persone che non hanno ancora ricevuto una sentenza definitiva, quindi molto spesso le nostre carceri risultano essere quasi delle case di appoggio delle persone e questo ha causato un sovraffollamento molto importante. Se la situazione non cambierà insomma nelle prossime settimane è possibile che il nostro paese riceverà un'interiore sentenza dalla Corte Europea dei Diritti Umani come fu quella del caso Torreggiani del 2013 dove appunto il nostro paese fu denunciato per detenzioni inumane e degradanti, quindi questo implicherà ovviamente pagare anche delle multe a livello economico, soldi che si potrebbero risparmiare e inserire invece all'interno delle politiche sociali. So, Raffaella ne può parlare sicuramente anche meglio di me perché questo weekend è stata al congresso dell'associazione Nessuno Tocchicaino che ha fatto tre giorni di congresso all'interno del carcere di opera. Sì, quello dei suicidi in carcere è un tema, è un'emergenza continua, si parla di emergenza ma in realtà l'emergenza è endemica. Già quest'anno, non è ancora finito l'anno, siamo al 67esimo suicidio in carcere. È un numero pazzesco. È un numero pazzesco. Posso dire, non avevo idea. L'anno scorso abbiamo superato gli 85 e quest'anno siamo sulla stessa linea d'onda, probabilmente per fortuna non raggiungeremo i numeri del 2022, ma resta comunque un'emergenza. Vuol dire che 67 persone quest'anno in tutte le carcere, in tutti gli istituti penitenziari italiani si sono tolte la vita. Si sono tolte la vita perché? Perché spesso le condizioni sono disumane, sono degradanti, spesso non ricevono risposta a dei diritti fondamentali di base dei detenuti. Quindi diciamo... Però Raffaella, quello che mi sconvolge è 67 suicidi di cui non ne sa niente nessuno, di cui nel mondo in cui sappiamo tutto di tutti, in cui veramente non si muove niente che non venga segnalato da qualcuno sui social e poi se ne parli una settimana inutilmente, mi viene da dire, in questo caso 67 silenzi completamente. Sì, non si parla di detenuti, la stampa non parla di detenuti, i media non parlano di detenuti, probabilmente perché non fa notizia. Fanno notizia ai processi, fa notizia alla cronaca nera, ma fino, diciamo, quando finisce il processo e quando si passa all'ultimo step, quindi allo step della detenzione, magicamente il tema dalla stampa sparisce, perché effettivamente il mondo carcere è un mondo completamente separato dal mondo dei liberi, i cosiddetti liberi. Infatti l'abbiamo visto anche sulla vicenda del CPR di Via Corelli, alla fine, se ne parla, sappiamo tantissimo, grazie alla rete Nolager, noi CPR, sappiamo benissimo cosa succede dentro, eppure solamente quando è arrivata le cronaca nazionali settimana scorsa, adesso si sta smuovendo qualcosa. Sì, è quello che chiamo sempre l'effetto Gabibbo, cioè se ci arriva il Gabibbo, se c'è notizia, allora ne parlano tutti. Tra l'altro qualcosa che non era correlato alle condizioni in detenzione. Infatti, infatti, infatti. Il tema però con cui poi adesso andremo avanti è in realtà correlato, perché diciamo appunto molti dei reati di cui questi 60.000, questo sovraffollamento tutto, sono reati legati diciamo al mondo della droga, chiamiamolo così. Sì, è violazione del testo unico sui stupefacenti. È citato prima da Naum, che ha detto letteralmente, spesso magari si trova anche gente che è stata fermata con tre canne in tasca, ha detto letteralmente così. C'è una proposta di legge, iniziativa popolare, che si può firmare, adesso con le firme certificate, con lo speed, tutta questa nuova maniera di... Non fate bene. Certo, almeno meno male. E cosa andiamo a toccare? Allora, la nuova proposta di legge è possibile firmarla su www.iocoltivo.org, ed è una proposta di legge che mira a depenalizzare il consumo, la coltivazione domestica e il consumo personale di cannabis. Quindi, siamo già a 25.000 firme, dobbiamo raggiungerne 50 per depositare, per portare il testo in Parlamento, e fondamentalmente con questa nuova proposta si potranno coltivare fino a quattro piantine femmine di cannabis a casa. Si istituirebbero i cannabis social club, quindi questi club di coltivazione e scambio di cannabis. Si possono trasportare e detenere fino a 30 grammi di cannabis. E sostanzialmente si va a depenalizzare quello che ad oggi è un reato, cioè sia il trasporto che il consumo, che è insomma tutto ciò che c'è intorno al mondo cannabis. Per capire come e tutto, allora adesso ci ascoltiamo una canzone, ma poi torniamo qui appunto e ne parliamo bene. C'è un sito di Cimperi con le MC... www.iocoltivo.org Ok, ma poi ci spiegare bene anche perché questa legge può essere una buona proposta secondo voi, perché capiremo invece chi dice che non lo è e perché lo dice, così capiremo bene tutto quanto, sempre qui su Crystal Radio, qui a Good Morning Milano. Adesso è il momento dei Purple Disco Machine, Duke Mourmont, Nothing But Thieves. Purple Disco Machine, Duke Mourmont e Nothing But Thieves, qui su Crystal Radio, Good Morning Milano, alle 8 e 22, stiamo parlando di cannabis, di... In realtà è il tema della legalizzazione, il tema più ampio è quello lì, anzi anche della possibilità di coltivarla, di tenerla. Ma perché è importante una proposta di legge come questa, a parte il fatto di potersi... E perché è firmata. E perché è firmata, infatti c'è questa la domanda che facciamo alle nostre ospiti. Beh, come dicevamo prima, per il tema carcere, perché un terzo dei detenuti è in carcere per quello, quindi si andrebbe ad agire sul tema del sovraffollamento in maniera forte, incisiva. E poi perché si andrebbe a togliere terreno alle mafie. Attualmente gran parte dei proventi delle mafie deriva dal contrabbando e dal traffico di sostanze stupefacenti. Considerando che in Italia i consumatori di cannabis si stima siano 6 milioni, pensate voi cosa potrebbe essere legalizzare il prodotto. Un prodotto che oltretutto adesso non è controllato. Quindi le mafie mettono in giro un prodotto che è ricco di paraffina, ricco di taglio, ricco di... Legalizzando si potrebbe da parte dello Stato controllare il prodotto che circola, che è messo in circolazione. Come possiamo però accettare il fatto... Adesso faccio un po' l'avvocato del diavolo, no? Come possiamo accettare il fatto che lo Stato ci metta in libertà, in commercio qualcosa che comunque non fa così bene? Beh, perché se ci pensate è in commercio tanta altra droga legale, l'alcol, il tabacco, anzi vengono anche sponsorizzate. Questo governo sponsorizza l'utilizzo di alcol e sappiamo che in Italia i morti per alcol sono tantissimi ogni anno, mentre invece i morti per cannabis ancora stanno a zero. Allora, ma è veramente così? È veramente così? Cioè è veramente che non fa niente, come dite voi? I morti sono a zero? No, sicuramente l'abuso, soprattutto in giovane età, per i minori, può incidere sullo sviluppo cerebrale, sicuramente. Infatti è giusto fare informazione perché si dovrebbe differenziare l'uso dall'abuso. Però legalizzare vuol dire anche informare di più, cioè togliere lo stigma, togliere il tabù sulla cannabis, informare più giovani, informare i consumatori e quindi avere un consumo consapevole, cosa che in questo momento probabilmente non c'è. Interessante la stima di 6 milioni di consumatori non è un numero basso. Sono tanti. Per una cosa che in teoria non dovrebbe usare nessuno, cioè secondo la legge stavo pensando. Pensavo addirittura di più. Vabbè, ok. Pensavi di più? Sì, sono pochi 6 milioni. No, non faccio le proporzioni perché non sono capace. Un decimo, credo sia 60 milioni. Solo di cannabis. Ah sì, solo di cannabis. Solo di cannabis, ok. Federica, per i radicali questa è una lotta che arriva da lontano, però no? Questa è una lotta che arriva da lontanissimo, nel senso che sicuramente negli anni 70 se ne è iniziato a parlare e poi c'è stato, diciamo, il referendum più importante, quello del 1993 che si è vinto, che ha depenalizzato di fatto il possesso delle sostanze stupefacenti. Quindi questo è un punto importante, dopodiché nel nostro paese c'è una discrasia tra quella che è la giurisdizione, diciamo, formale e quello che viene... Abbiamo perso un altro... Quindi molto spesso, anche se esiste di fatto, è tollerata, c'è solo una sanzione amministrativa per il consumo di sostanze, molto spesso questo non avviene nella realtà, perché una persona viene comunque assoggettata ad un sistema giuridico, tale per cui al di là di far spendere tantissimi soldi al nostro sistema giustizia, si viene anzitutto stigmatizzati e poi si attua un controllo sulla persona in un modo estremamente invadente, anche solo quando si è un consumatore e non si è uno spacciatore, cioè pensate che c'è il rischio del ritiro del passaporto. Questa è una cosa piuttosto inaccettabile. Invece concordo molto con quello che diceva Raffaella ed è giusta la tua domanda, cioè come possiamo pensare che uno Stato lascia libere delle sostanze stupefacenti? Beh, in realtà appunto come diceva lei, anche secondo la rivista The Lancet, l'alcol è la sostanza in assoluto che fa più morti, quindi questo significa che ovviamente morti che hanno a che fare a volte anche con malattie che ci si porta anche dietro nel tempo e non esiste un'educazione adeguata. Io su questo sono un po' fissata, tutte le mattine faccio la rassegna stampa sulle droghe, stamattina ho visto che in una scuola di Ragusa sono entrati con i cani antidroga e hanno fermato un ragazzo di vent'anni che possedeva marijuana, ecco se ad esempio nelle scuole invece che andare con i cani andassimo a fare educazione, istruzione sulle sostanze, forse anche i ragazzi sarebbero più consapevoli rispetto a quello che vanno a fare, perché comunque non è neanche il... cioè bisogna arrivare ad un cambio di paradigma, ma non è quanta sostanza si assume, ma anche come la si assume e queste sono grandissime differenze. No, infatti, cioè, secondo me il grande discorso è una cosa che nella società esiste. Ok. Perché continuare a tenere il tabù? Se possiamo comunque metterci delle regole e fare informazioni riguardo questo? Perché noi nascondiamo la polvere sotto al tappeto anziché normare, invece se un fenomeno esiste, è inutile fermare il vento con le mani, no? Se un fenomeno esiste va normato, va fatta informazione, non va solo punito e colpevolizzato. Quello che a me sembra, lasciando un po' sconvolto sul tema, a parte di essere favorevoli o no, ma faccio un passo più indietro in realtà, è il non capire neanche le certe regole, cioè nel senso che non è così semplice capire cosa è giusto, cosa è sbagliato secondo la legge, quando sei nel torto, quando sei nel... cioè, è complicato quello, quindi immagino che poi ci siano lande desolate in cui, ad esempio, la criminalità possa muoversi... Si può razzare liberamente. Infatti, immagino, immagino, insomma, è un tema... Adesso ci faremo un secondo, ma poi vorrei tornare per capire invece chi, magari, tanto lo sapete benissimo, credo a voi due, anche se non abbiamo il contraltare, quali sono le motivazioni che invece magari qualcuno dice no, non è il momento, no, non si può fare, non è il momento degli anni 70, ricordiamo appunto come diceva Federica degli anni 70, che questa battaglia va avanti, però capire un po'... Non è la priorità. Ecco, non è la priorità. Adesso ci siamo ad alto, si può capire poi sempre cos'è questo alto a cui pensiamo. Comunque, 8 e 30, ci fermiamo un attimo per una piccola pausa, ma poi torniamo sempre qui, di nuovo a Good Morning Milano, di nuovo insieme a Raffaella Stacciarini e Federica Valcaudo appunto per parlare del tema e ricordate anche che potete firmare per la proposta di legge popolare. Maneskin con Valentine, se non vi abbiamo tirato giù dal letto così non so più cosa fare io, cioè nel senso che abbiamo suonato nelle orecchie, smartellato con un po' di rock, cioè se non ce la facciamo così non so cosa fare, ma penso che alle 8 e 38 siate già tutti belli svegli e attivi nella città. Io ancora un po', sono ancora nella fase un attimo di risveglio. Nonostante tu sia qui dalle 7, nonostante mi sia svegliato alle 6, io formalmente, è successo l'altro giorno che mi hanno chiesto, ma tu che ora ti svegli adesso che fai la radio, eccetera, ho detto formalmente alle 6, sostanzialmente nel corso della giornata. Alle 9 e un quarto, dopo la sigla finale di solito, di solito così. E allora andiamo avanti a parlare del tema di giornata. Eh sì, perché siamo qua con Raffaella e Federica dei Radicali e di Meglio Legale per appunto parlare dell'iniziativa per la proposta di legge popolare che si può firmare, ricordiamo dove? Si può firmare su www.iocoltivo.org con lo speed. Perfetto. È assolutamente gratuita la firma perché ovviamente la piattaforma la mettiamo a disposizione noi. Già 25.000 firme e... In una settimana? In una settimana, in 10 giorni, sì. Un bel risultato. Il grande tema che anche nel... Vai vai Federica. Dicici Federica. No, è sentato un attimo la connessione con Federica, si è presa bene ma è entrata così adesso. Federica, ripristiniamo la connessione e poi ti diciamo quando ce l'abbiamo te lo diciamo. Allora gli ascoltatori. Ecco. Vai vai Federica, adesso ci sei. Poi a studio è totalmente autistico, diciamo, nostro dovere anche delle dozioni, fare politica ha un costo... No, Federica non ti sentiamo più. Federica non ti sentiamo più, niente, no. Torniamo allora un attimo in studio, intanto poi cerchiamo di ripristinare il collegamento con Federica. Tu hai capito cosa volessi dire? Probabilmente Federica voleva dire che fare politica ha un costo e quindi viviamo soprattutto di donazioni e tramite lo stesso sito potete insomma donare affinché riusciamo a portare avanti questa campagna, anche perché la piattaforma costa e ogni firma costa quasi un euro e venti a noi, quindi ci sono dei costi vivi che dobbiamo colmare insomma. Quindi diciamo che per noi firmare è gratuito, poi se però cacciate un po' di lira non sarebbe male. Non ci fa del male, no. Non ci fa del male perché potete perorare di più la causa. Anche perché di firme venne raccoglieta abbastanza, tra radicali e meglio legali. Esatto, un euro e passa firma, non è voglia. Il grande tema che appunto anche fuori onda stavamo cercando di capire, dal punto di vista politico adesso, chi è che ha la voglia e la possibilità di impugnare questa battaglia e dire ok facciamola? Eh, questo è una bella domanda, nel senso che ovviamente la destra fa la destra, quindi la destra ha un pugno securitario, spinge sul proibizionismo, soprattutto questo governo Meloni, perché parliamo di una destra abbastanza forte, insomma, è coesa. La sinistra non fa la sinistra, nel senso che i partiti che dovrebbero appoggiarci, i partiti in Parlamento che dovrebbero appoggiarci sono un po' allatitanti, a parte più Europa, a parte possibile, a parte varie associazioni che ci stanno dando una mano, però noi ci aspetteremo una risposta più forte e più veloce anche da partiti di massa, di sinistra, non tanto perché capiamo la posizione del governo Meloni, capiamo meno quello che sta facendo la sinistra riguardo al tema, ok? Che tu dicevi prima, non è una priorità, ma non è una priorità da mezzo secolo. Non è quello che dicono loro. La sinistra non fa la sinistra, era il 98 quando Nanni Moretti chiedeva a D'Alema di qualcosa di sinistra. Siamo ancora lì. In questo momento il partito di massa di sinistra è almeno formalmente più a sinistra da quando è nato il Partito Democratico. Ah, tu dici, non è mai stato così a sinistra? Non è mai stato, diciamo così. Sulla carta sì. Sulla carta sì, allora se non è il momento di prendere di appena... Se non ora quando, diciamo uno slogan. Facciamo un appello al PD. Giusto. Ma anche in consiglio comunale... Federica, mi spiando, Federica, continuiamo a perderti una connessione. Proviamo a ricollegarci allora con Federica, proviamo proprio a fare il ricollegamento con Federica e vediamo se ce la facciamo. Siamo anche sicuri che in consiglio comunale, per esempio a Milano noi trattiamo di politica locale, su vari temi, guarda quanto si è spaccati all'interno del PD. Guarda, Naum prima ha detto così, io sono abbastanza sicuro che prenderne una a caso all'interno del PD probabilmente ha una posizione invece un po' più vicina. Sì, sì, ci sono più anime che consigli. Sempre quello il discorso dei partiti di massa. Sì, con i correnti, le cose... Vabbè. Vabbè, vabbè, vabbè. No, allora Federica, ecco, vediamo se riusciamo a riprenderci Federica che si sta collegando così magari almeno per il finale la salutiamo. Vediamo se... Chiedo anche a Viola in regia se può prendere e metterci Federica a tutto schermo. Proviamo Federica, ci sei? Mi sentite? Benissimo, forte e chiaro. No, dicevo, ricollegandomi a quello che stavate dicendo prima, che la destra fa la destra e la sinistra fa il centro. È questo il gravissimo problema di questo paese. C'è un problema di geometria quasi, direi. C'è un problema di geometria, cioè a scuola non hanno capito i poli dove dovevano bene andare, no? E soprattutto sentivo prima quando si parlava del Partito Democratico, quando è nato nel 2007, cioè soprattutto quando è nato il Partito Democratico, lì si è proprio iniziato un po' a fare il centro, a parte diciamo su singoli parlamentari o singoli consiglieri comunali come appunto Daniele Naum che hanno posizioni più di sinistra, non che per forza la cannabis debba essere un argomento di sinistra, anzi vediamo ad esempio negli Stati Uniti che addirittura in alcuni stati ci sono dei senatori repubblicani che vogliono fare la sperimentazione sugli psichedelici, quindi capite bene che ci sono degli stati in cui questi temi relativi alle sostanze non hanno neanche una posizione politica. Sì, beh effettivamente non credo che nel capitale di Marx ci fosse scritto che si poteva non fare, non credo ci sia. Che la droga fosse il male. Non credo ci fosse né nel bene né nel male, quindi effettivamente non è un tema da una parte o dall'altra, però qui siamo sempre a polarizzare le cose poi alla fine, cioè poi magari arrivate voi radicali e scompigliate un po' le cose con appunto il meglio legale, però effettivamente i partiti tendono a polarizzare. I partiti tendono a fare orecchie da mercante su questo tema o a polarizzare, sì sono due gli opposti, anche in questo caso si polarizza, quindi o non si porta il tema al centro del dibattito o si demonizza da una parte, il problema resta, quindi noi cerchiamo di dar voce a un tema che in questo momento non trova spazio, che da qualche anno non trova spazio, a parte il referendum che abbiamo proposto, il quesito referendario che abbiamo proposto un paio di anni fa. Chiarissimo, allora direi che siamo quasi in chiusura, potremmo ricordare bene tutte le coordinate per firmare la petizione. Sì, www.iocoltivo.org, c'è il tastino firma, firma con speed, si firma e non serve conferma, non serve altro, la firma si aggiunge alle 25.000 firme già raccolte. Federica, altre battaglie su cui state puntando in questo momento, cosa abbiamo? Mi piace sempre sentire l'elenco delle battaglie di Federica. Allora, adesso siamo un attimo in una situazione di stallo, anche perché ci sarà il congresso di radicali italiani. Ah no, pensavo per il Natale, invece no, non è quello che... Però certamente a livello milanese ripartiremo, credo anche con questioni relative alle sostanze, a me piacerebbe molto impegnare la giunta milanese nel stanziare fondi ad esempio per il drug checking, che credo sia una delle cose fondamentali in una delle città che ha raggiunto l'apice su consumi, sulle sostanze pesanti ad esempio. Certamente credo che ci dovremmo estremamente impegnare sul tema dell'immigrazione, non solo sulla questione CPR, ma ci saranno le elezioni europee, la destra in particolare Salvini ha già iniziato a fare una campagna elettorale, una propaganda politica nuovamente vecera nei confronti delle persone, quindi certamente sarà fondamentale far capire alle persone che un sistema di integrazione reale è la cosa che serve al nostro paese, quindi questi secondo me sono due grandi temi, insieme anche alla questione ambientale che magari non è propriamente radicale. Ma no, quella dovrebbe essere un po' a cuore a tutti quanti, oserei dire, cioè non solo. Si entra oggi perfettamente nel range dei diritti civili e dei diritti sociali. Dopodiché gennaio c'è il congresso, dicevi giusto? Ecco, se volete qua ne ho uno da proporvi, qua di fianco a me, abbiamo qua Lorenzo Masieri, lui però direttamente al segretariato, alla presidenza diretta, lui punta. Presidente Maximo. Sì, 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 il leader Maximo potrebbe essere lui, quindi va bene, bocca al lupo Masieri, va bene, va bene, per questa nuova carriera. No, grazie mille allora a Federica Valcaudo, ancora appunto Radicali Milano, grazie mille Federica. Grazie a voi, sempre. E grazie anche a Raffaella Stacciarini, appunto, di Meglio Legale, grazie per averci spiegato molto meglio e fatto capire qual è il tema, che appunto a volte basta star zitti e ascoltare, è una cosa che non si fa mai abbastanza. Che non si fa più, che non si fa più. Noi quello facciamo, zitti, abbiamo ascoltato, adesso poi ognuno si fa la sua opinione, ognuno pensa a quello che vuole, ma finalmente almeno abbiamo capito un po' di più su questo tema. Grazie mille davvero ai nostri ospiti. Grazie a voi. Grazie, continuiamo con la musica, la musica di Crystal Radio. Beh, questo è un brano di quelli che ogni tanto saltano fuori, grazie all'Ufficio Programmazione, che insomma è sempre bello, il gruppo soprattutto, Davide Toffolo, lo conosce, no? Dei tre leghi dei ragazzi morti. Ecco, lo conosci perché tu non lo conoscevi. No, lo conosco, sono quelli con la maschera, va bene? Che non sono gli Sleeknot. Ecco, vedi che lo sono bravissimo. E poi gli extra liscio, appunto, o meglio, gli extra liscio, insieme a Davide Toffolo, qui su Crystal Radio, alle 8.49, Good Morning Milano, 3317853555. Così possiamo anche salutarci prima di andare a casa a far colazione, poi, nel caso, se volete, siamo sempre qui, in diretta. Avanti! Avanti!